Se ti senti stanco o preoccupato, prova a rientrare in te stesso respirando consapevolmente. Esisti perché Dio ti ha desiderato dall'eternità. Sei il frutto del suo infinito amore. Egli abita in te davvero, perché sei tempio dello Spirito Santo. Nulla dovrebbe interessarti di più. Tu hai in te stesso colui che ti ha creato nell'universo e che ti sta continuamente sostenendo. Pensa che Egli è davvero il Dio amore onnipotente e che ha la possibilità di creare infiniti altri mondi diversi da quello che stai vivendo. Ti ama particolarmente perché nessuna creatura è identica a te e per Lui sei unico, con la tua storia, le tue fragilità ed i tuoi carismi, con la tua speciale ed irripetibile visione del mondo.